ho appena spento allora da dove non neanche fatto in tempo accendere tira il muso sei in prima sicuramente e allora come hai fatto a fermarti insieme ho avuto paura era piano quel che tu già di va piano è andata giù il sambuco lasciamolo lì che ricresce era in seconda eh ho capito ma ci sono dargli un pelino ho avuto paura piano devi andare giù piano morbido morbido non devi dargli il colpo a mo appoggiati alla pedivella a a a a a a a Grazie a tutti. Mi ha suonato a me il telefono, dopo si è ingrappolato lui sul sasso, basta. Vai, vai dritto, no dopo, di qua scendiamo, scendiamo di qua. Grazie. Grazie a tutti.